E adesso ci spostiamo nel nostro territorio, primo step dal Gall Golf di Castellammare per salvare il castello di Calattubo. Da anni al centro di cronache positive e negative, infatti è noto il problema dello stato in cui versa. Ma questa ultima notizia fa sperare in un inizio di una soluzione definitiva, almeno questo si augurano da tempo associazioni e amministrazioni. Facciamo il punto della situazione con il sindaco di Alcamo, Domenico Surti. Per la prima volta abbiamo a disposizione, grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto dal Gall, una buona somma per fare un primo importante intervento di messa in sicurezza al castello, che segue a quelli che abbiamo fatto in questi anni, che ci hanno consentito intanto di salvare la cappella e fare qualche altra manutenzione. Ma stavolta possiamo spingerci un po' oltre e d'altronde ci dà anche la giusta carica per andare alla ricerca di ulteriori finanziamenti. In campo Gall, associazioni, amministrazioni, ci vuole tutto questo per salvare la storia? Sì, va fatto assolutamente un ringraziamento particolare di certo alle associazioni, l'associazione Salviamo il Castello di Calattubo, il gruppo Locale Fai, ma tante altre associazioni che hanno anche collaborato, hanno composto l'ATS che ha dato una mano al Comune anche in fase di redazione del bando, ma non solo. Sono anni che grazie a questi volontari si tiene alta l'attenzione sul Castello di Calattubo e quindi ci hanno dato la spinta per fare di tutto, per presentare anche questo progetto. Ringrazio per questo l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Ferro, l'ingegnere Parino e tutto il gruppo di lavoro, di progettazione del nostro ufficio. Adesso è importante che partano subito i lavori perché ogni minuto può essere prezioso. La storia rappresenta l'identità, dice cosa è un territorio e cosa è stato. Quale futuro per il Castello di Calattubo? Perché si sa, il fiore è tutto sulla carta, quale futuro avrà? È certamente un reperto storico che fa parte del nostro patrimonio, molto importante. è una, sorge in una zona ricca di storia anche da un punto di vista archeologico e da questo punto di vista abbiamo avuto già qualche idea, qualche contatto per poter addirittura in futuro fare una campagna di scavi. È chiaro che più volte si è parlato del tipo di restauro da fare, certamente rimane il fatto che il Castello è in una posizione strategica perché lì dall'autostrada è visibile e quindi è un biglietto di ingresso non solo nella nostra città ma in questa porzione di territorio perché dalla provincia di Palermo è la prima cosa che si vede da un punto di vista storico-culturale. Io credo allora che la Regione, prima di tutto, dovrebbe accogliere, dovrebbe sposare questa causa e darci una mano eventualmente a trovare le somme proprio per rimetterlo in piedi completamente e poi creare lì un punto di interesse per i turisti che... Grazie a tutti!